Come sono questi cavalli? Qual è il loro modo di vivere? Quali sono le loro paure? Abbiamo reclutato un docente dell'Università di Pisa, della Facoltà di Medicina Veterinaria, che ci guiderà un po' e cercherà di stimolare la nostra osservazione dei cavalli. Buongiorno Paolo, grazie di aver accettato il nostro invito. Oggi siamo venuti a Radicondoli. Per chi non li avesse riconosciuti, questi vecchiarelli, comunque vecchissimi non sono, sono alcuni dei cavalli che vivono nel pensionario di Radicondoli, dei Carabinieri della Forestale. Alle nostre spalle l'Isirlo Gudoro, cavallo che ha vinto anche una carriera nella Contrada del Bruco. Ci sono anche altri cavalli, tutti i cavalli che hanno vissuto una lunga vita sportiva, nei box, nelle scuderie, nelle piste, nelle corse, nelle competizioni. Poi un giorno si sono fatti male e nel momento in cui hanno ripreso la loro vita normale sono stati trasferiti in natura, in mezzo a questa riserva meravigliosa gestita proprio dai Carabinieri Forestali. Qui hanno ettari e ettari di prati e quindi tornano a vivere tutti insieme. Che succede quando vivono tutti insieme? Si ricordano cosa vuol dire vivere insieme? Oppure cavalli sportivi, cavalli abituati a viaggiare sui van, a vivere nei box, a fare le corse, quando vengono rimessi in un semi libertà come questi, che cosa succede? Succede che più o meno lentamente, dipende molto dal soggetto, ma tornano a fare il cavallo, a fare la vita naturale. Il cavallo è un animale sociale per cui deve vivere in branco, deve avere un contatto con i suoi simili. E anche anni e anni di vita in scuderia, una volta che gli viene data l'occasione di avere un rapporto sociale con altri cavalli in un contesto naturale, loro tornano a fare il cavallo sociale, l'animale sociale, per cui si instaurano dei rapporti, si instaurano dei legami fra i vari soggetti e si torna un pochino tra virgolette alla vita naturale. Ora il cavallo, va detto che in natura il cavallo selvatico come animale selvatico non esiste più, è scomparso da millenni, tutte le specie presenti in natura che vivono in un ambiente naturale sono reintrodotte dopo la domesticazione, però è un animale che mantiene appunto nel suo patrimonio genetico comportamentale la necessità di vita sociale. E che cosa succede? Come funziona la vita sociale? Vanno a prendere l'aperitivo, fanno due chiacchiere, sono pettegoli? Allora, aperitivo no, due chiacchiere sicuramente sì, pettegoli vedremo, insomma, stiamo un po' studiando la situazione. Quello che è certo è che instaurano dei veri e propri rapporti fra sé, diciamo in maniera analoga un pochino a quello che avviene fra le persone. All'interno del branco ciascuno ha un suo ruolo ben preciso, c'è chi decide quando si va a pascolare e dove si va a pascolare, c'è chi per esempio quando si presenta qualcosa di inaspettato è il primo che va a esplorare, va a controllare la situazione e c'è quello, tra virgolette, responsabile della sicurezza, insomma, il butta fuori, il butta dentro in questo caso. Ecco, per cui si instaurano una sequenza proprio di legami sociali all'interno di ciascun branco. Loro hanno un compagno preferito, genericamente, generalmente, con il quale proprio stanno molto spesso più a contatto che non gli altri, insomma, che non con gli altri soggetti e comunicano, comunicano. Non sappiamo bene come si sviluppa questa comunicazione con il cavallo, però sappiamo per esempio che per loro è molto importante la posizione delle orecchie, la tonalità del nitrito, la direzione della testa, fra di sé comprendono dove è diretto lo sguardo, cioè tutta una serie di meccanismi che gli consentono proprio di comunicare all'interno della struttura sociale. Questo è un piccolo branco, un piccolo nucleo di quattro cavalli, ognuno di loro ha avuto una vita, una vita sportiva, tutti i cavalli che hanno corso, hanno corso in piazza del campo, per esempio, in questo caso, ma potevano essere i cavalli che hanno fatto concorsi ippici, hanno avuto una serie di infortuni e poi hanno avuto la grande fortuna di poter vivere qui. Quando siamo arrivati i cavalli erano tutti vicino al cancello, no? Perché c'erano gli uomini che tutti i giorni comunque li controllano e portano loro del mangime, dell'avena, comunque dei foraggi, oltre a quelli che trovano nei prati. Quindi i cavalli ci hanno accolto e è successa una cosa particolare. Cavalli come loro, abituati a tanti stimoli esterni, come quelli che può avere un cavallo sportivo, si sono un po' impensieriti di un semplice foglio bianco. Perché? Beh, perché, appunto, qui siamo in un contesto che riporta un pochino alla vita naturale, alla vita sociale dei cavalli. Loro, in questo contesto qui, si ristrutturano con delle gerarchie e in questo contesto alcuni elementi tipici, magari anche della scuderia o comunque della vita a stretto contatto con le persone, sono poco presenti. Per cui, in questo contesto qui, la vista di un foglio, di un foglio bianco, può essere motivo di curiosità, di apprezzione, di... aspetta, fammi vedere che cos'è di preciso, insomma. È stato elmizzato, perché no? Il cavallo con il mantello un po' più chiaro che quello che ha un po' soffiato. Sì, allora, questo soffiare è un comportamento di cui oggi si sa un pochino il significato preciso. È una sorta di attività calmante che viene messa in atto in certe situazioni quando c'è una componente emotiva per cui si alza, diciamo, l'emotività del soggetto e questo è uno dei comportamenti che contribuisce nell'immediato, nel brevissimo tempo, a mantenere calmo lo stato interiore. Insomma, è uno di quei comportamenti che si chiamano calming behavior in inglese, cioè che servono proprio a rilassare per affrontare meglio appunto una certa situazione. In questo caso il foglio bianco. Quali sono gli studi che sono stati fatti fino ad oggi riguardo proprio al comportamento e alla vita sociale del cavallo? A che punto siamo? Eh, siamo... siamo molto avanti. Ora, dobbiamo considerare che fino a pochi anni fa, circa dal punto di vista scientifico, proprio della vita sociale. Oggi siamo in grado di sapere che appunto hanno dei sistemi di comunicazione molto sofisticati che per noi sono quasi... possiamo studiare i modi con cui comunicano, ma il significato per adesso siamo un po' lontani. Sappiamo, per esempio, che il nitrito, la modulazione del nitrito, diverse tonalità di nitrito trasmettono una reazione emotiva diversa, per cui in una certa situazione si nitrisce in un certo modo, quando c'è una situazione di piacere si nitrisce in un altro e così via. Contano molto sulla capacità di comunicazione visiva, quando sono molto vicini, perché la posizione delle orecchie, la posizione dell'incollatura, i sottili movimenti dell'espressione del muso, del volto, del cavallo, sono dei mezzi di comunicazione molto importanti. Oggi sappiamo che il cavallo è in grado di avere circa 16 diverse espressioni del viso, diciamo, del muso. Per cui a seconda di come si muovono i muscoli del muso, noi sappiamo che lui ha delle espressioni proprio diverse, come ce le abbiamo noi, ce l'ha il cane come il gatto. Per cui è un sistema sociale molto complesso, che si ripercuote anche proprio nei legami fra sé. I cavalli sono in grado di, tra virgolette, fare la pace dopo aver litigato. Se c'è un bisticcio all'interno di un gruppo sociale, è molto vantaggioso per tutti i soggetti del gruppo cercare che i due che hanno bisticciato si, tra virgolette, pacifichino, facciano la pace. È un pochino come se delle persone vivono in uno spazio comune. Se c'è un litigio, è meglio che questo litigio poi venga appianato. Dovremmo imparare molte cose da loro? Sì, da questo punto di vista, dal cavallo e da tutti gli animali sociali avremo molto da imparare. Per esempio, i conflitti, in realtà, che noi nel nostro immaginario, ci immaginiamo che i cavalli siano molto fisici, che abbiano delle reazioni anche molto, tra virgolette, quasi violente nei confronti degli altri. In realtà, in un gruppo sociale stabile, il contatto fisico di tipo agonistico, il calcio, il morso, è quasi inesistente. Si minacciano, hanno delle espressioni, fanno delle faces, e questo è sufficiente a mantenere determinati equilibri, senza bisogno di arrivare proprio all'uso della, tra virgolette, violenza. Quindi, per esempio, in un condominio si litiga molto, no? Addirittura in Italia, se a volte si arriva agli omicidio, nel condominio per liti furibonde, oltre che andare in tribunale, denunce, dispetti vari, tra loro queste cose non esistono? O esistono, ma sono sotto controllo? Allora, diciamo, a questi livelli no, non esistono. I cavalli non si arriva mai in un contesto sociale stabile ad avere, appunto, delle aggressioni vere e proprie, cioè della violenza, nel vero senso, così come la intendiamo noi. Non c'è mai perché non c'è ragione. Se il gruppo è stabile, non c'è ragione di arrivare a quel livello di violenza, insomma, sì. Perché energia è buttata via? Sì, e in natura tutto ciò che necessita di uno spreco di energia, di un impegno di energia importante, può essere poi, quell'energia lì, invece può essere poi utile in contesti in cui magari bisogna sfuggire, che ne so, da un attacco di lupi o in altri contesti. Per cui le reazioni eccessive sono inutili e sono da evitare, perché sono uno spreco inutile di energia, essenzialmente. Quando si vengono però inseriti in questo specifico branco, nuovi cavalli che arrivano, bisogna fare attenzione perché non sempre sono ben accetti. Quindi c'è il rischio che l'ultimo arrivato venga messo da una parte e non venga fatto bere o mangiare. Sì, da questo punto di vista le leggi della natura sono piuttosto severe. È un gruppo stabile. Una volta che ha raggiunto il suo equilibrio non lo si può modificare in maniera improvvisa e come ci pare. Per cui l'ingresso di un nuovo soggetto necessita di tempo. Purtroppo è difficile dire quanto perché cambia da soggetto a soggetto, da gruppo sociale, ma c'è una sorta di periodo, tra virgolette, di prova a cui il soggetto deve sottostare per poter poi essere inserito all'interno del gruppo sociale. Questo sta un pochino anche alla sensibilità delle persone cercare di non prendere un cavallo, magari metterlo subito, un cavallo sconosciuto messo subito in un gruppo sociale, ma cercare appunto di modulare questo ingresso.